Nonostante il numero aumentato rispetto al 2016 degli italiani in vacanza, la città di Napoli non si spopola più nel mese di agosto come un tempo. Grazie anche ad un buon afflusso turistico sono in aumento i commercianti che decidono di posticipare la chiusura. Addestare preoccupazione per la fruizione sia dei turisti che dei cittadini e il trasporto pubblico locale, con il taglio di alcune corse, degli autobus ANM, la chiusura della funicolare di Mergellina e la ripartenza invece di quella centrale che ha subito varie chiusure temporanee. Ad intervenire circa il sistema Napoli Enzo Perrotta, presidente del centro commerciale Vomero a Renella. Vuole e pretende di essere una città turistica e lo è per la spontaneismo dei turisti perché non c'è un progetto turismo nella città di Napoli vero e proprio come non c'è in Campania. Ma il vero problema che noi abbiamo oggi è che accoglienza gli diamo se devono magari essere in attesa davanti alla funicolare che non funziona pur avendo speso 8 milioni oppure avere un trasporto nella metropolitana collinare, la linea 1 che praticamente tra un treno e l'altro ha 20 minuti di attesa. Ci lamentiamo di Roma, Roma è una città che sta allo sbando però è una città dove la metropolitana che funziona ci ha attese massimo di 5 minuti e c'è l'aria condizionata e il wifi di entrare la metropolitana. Queste per noi sono cose proprio dell'altro mondo perché non esistono ancora. Allora tutto è basato sulla negazione, il sacrificio e la spontaneità dei cittadini e adesso anche degli turisti che stanno adeguando alla nostra città. Eppure ciò nonostante la nostra città è evoluta bene dai nostri turisti che vengono e che arrivano e che vivono il folklore di questa città, ma noi secondo voi possiamo vivere ancora di folklore, di mandolino, di capacità furbesca di ognuno di noi, di rendersi simpatico e non avere invece una città organizzata per l'accoglienza, in primis dei propri cittadini e poi degli ospiti che vengono.